1, GO! il puzzle oggi vai pazzo 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 il sarà un bel po' il puzzle mi impaurisce sinceramente vabbè ma perchè ho sempre rendere distanza 32 la voglia 2 diamine io ce l'ho assoluto molto più fluido ma che bisogna fa? non lo so vision pulsante al centro oh che cazzo hai messo time set un comando un comando book ah questo è per gli aiuti, in te aiuto dove dobbiamo scriverlo oh che cazzo ah questo 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 cos'è? ah toggle pillars fermo hai già usato l'indizio ma sarai scemo lo ricordo ok oh qui che cazzo perchè sei scoperto? ah ok lo so qui tante si teleporta a quello dopo che è un bel problema puzzle ah pezzo di puzzle ok lag non mi fa aprire l'accesso ok che figata e dovremo provare tutte le combinazioni eh aspetta si aspetta però si vabbè facciamoci il file allora partiamo da perchè non mi fa più l'f5? questo non lo so perchè non ti fa l'f5 ah giusto perchè l'avevo messo al tasto del mouse i più difficili saranno quelli in basso mi sa che ne ho trovato uno mettendolo a caso eh senti io direi di usare gli aiuti te quanti aiuti hai? io non ho messo uno in mano non mi ha dato c'hai a destra la script hint quello è qua però non ce l'ho l'aiuto ma vabbè fai io beh posizionano te quel blocco o cosa? non l'avevo fatto niente no aspetta quello lì l'ho messo io si però firma int mi continuo a dare il libro e basta a me e cazzo perchè non ci dai gli aiuti letteralmente? come che si deve fare? ah no fermo ho capito ma come? ma non ci sta dando nessun cazzo di aiuto? ma scrive qualcosa in chat? mi sa che ho fatto un aiuto? dove sono? che cos'era? basta premere qui genius e hai un visuale di qualcosa wow ragazzi siamo riusciti a fare l'aiuto qua che cos'è? dove sei sparito? cos'è sta robaccia? mia serve me mi dicevo quello della pecora blue ship died far left mid left center mid right far right wow allah allah dove sono i pezzi? ci dai gli indizi ciao thomas thomas sei per cento di mezzo ma quello del ma scusami e quel puzzle? quel puzzle con l'altro aiuto l'hai risotto da te oh perfetto mi aspetta dobbiamo fare ah le set ship ok perchè si vede la barriera? cos'è questo? ok logic sponato thomas mac and bo allora noi dobbiamo fare stai registrando? si si sto registrando noi dobbiamo colorare delle pecore ma da qui le dobbiamo colorare del colore giusto portare nel punto giusto con quel pulsante con quella leva che hai tirato con quella fare che hai fatto ritiralo giù per favore io piglio questo coso eh non è possibile non te lo fa appena sponato dopo ahhh sono scemo ripigelo ok allora innanzitutto uso un po' di logica abbiamo uno stack di ogni colore no io ho soltanto i lapis di quattro colori cinque col tuo allora allora mac and bob non sono gialli la la pecore nel mezzo è un verde o arancione si ma non ho capito la logica come lo capisci qua c'è scritto far left c'è un libro in mano che ci spiega le regole ma io non ce l'ho questo qui che ho in mano si ho capito non mi trego e te lo sto anche traducendo Bob è a destra della della pecore arancione spiega la pecore arancione lo sta e non si sa eeeh quella nel mezzo potrebbe essere o arancione o verde no scusami o arancione o verde si eeeh lo sai che è uno eiter cosa voleva dire eiter scritto come e i t h e r non mi ricordo ehi e che vuol dire eiter scritto proprio eiter si con l'h però davanti alla t eiter 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 yellow on the non capisci no ehm bob e due spazi a sinistra di dow 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 come cazzo si dog perchè ti dice quel cazzo di pulsante per sponare la pecora c'è bob stiamo parlando solo di lui e coloriamo sto bob allora eeeh thomas non è nel nell'ultimo slot a sinistra eeeh la la pecora eeeh tutta a destra è viola e la e quell'arancione non è nel mezzo quindi allora la verde è nel mezzo innanzitutto però non so qual è boh vogliamo sponare una pecora facciamo a caso genus ti uccido sai quante combinazioni ci sono fra 5 colori 5 pecore e 5 chiamini posti e hint dove sono sti hint ho usato due aiuti beccan benissimo premitele e scritte in chat ma no no non c'è scritto oh genius che cosa è tutte sti cosi in terra li ha messi lui sono un grande sono un grande l'ho fatto io ora come thomas thomas è al centro aspetta thomas è al centro ed è verde va bene resettoci siamo dei baroni assurdi è uscito mcdonald mcdonald dove sta a estrema destra e il colore però quale cazzo è è viola estremo a destra lui è andato a sinistra ma è nero no io vedevo non è buggato un'altra volta mcdonald allora hai detto è viola quindi do coloro io te hai detto che è viola levati levati ecco ho fatto colorate colorate vai allora estremo a destra estremo a destra mc via vola via bob e bob e bob e bob e malle invece aspetta tanto lo prendo al lazzo poi lo coloro io bob malle dove sta bob malle allora mid left quasi sinistra ed è celeste celeste come celeste c'è il blu chi ha il celeste c'è il blu ah vabbè il blu bob è blu ok a medio sinistra quindi non al centro ma qui dove sono io questo qua si bravo bob legalo 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 ok fatto ok di un po' chi esce dopo fatti doug doug sta a mezza destra giallo che ne sai che è giallo io il colore non capisco dove lo vedi terra genius a terra ok dove sta medio destra quindi dal lato perché è chiuso ok medio destra qui qui questo qui legalo legalo levati fatto poi vediamo chi ci esce thomas thomas dov'è allora al centro ed è verde comunque qualcosa verde centro c'eravamo a secco vai thomas e quindi l'ultimo che è rimasto arancione per forza ed è all'estrema sinistra fermo che cazzo dai vati stone quello di me l'ho preso io no l'ho preso io te l'ho rotto credo ok l'abbiamo fatta oh aspetta ti lascio un po' di roba lascia un po' di cd più che altro mi serve questa roba non serve a niente po' di cd che li ho lasciati che non ho lasciati altri 4 dobbiamo cercare la strada meno corta però abbiamo anche qua è bloccato aspetta no quello è bloccato ora dobbiamo scegliere quello di destra in teoria si quindi quello rosso ok ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho quello rosso non va non va dai dai che poi io non so se hai notato ma quando li recuperi scemo che figata guarda hai cambiato stanza senza rimuoverti fermo sei rapetto oh subito quello giusto è quello rosso quello lì si ok siamo qua aspetta no lo avevi aperto grande me vai no di nuovo qui no che palle cosa hai fatto com'è che siamo entrati da qui in questa stanza si può entrare da ovunque tutti a parte che se noti la strada va in giù non va in su quindi abbiamo sbagliato devo mettere qualcos'altro no non rimette questo levati ah perché se ti guardi quelle con le frecce dicono prima la direzione che ti sblocca e poi la direzione in cui vai vabbè comunque qua c'è il blocco però non si può andare aspetta non si può andare guarda la mappa è bloccato allora leva quello dietro il problema è quando no aperto un attimo e quando li metti dentro le frecce non le spariscono te li rende come dischi musicali normali no non credo si prova quello rosso ci fa questo ok stavolta va bene va dritto stavolta aspetta allora se io quale mettere levati levati mi ho messo il bianco vabbè ok 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 abbiamo sbloccato ma non l'avevi aperto si appunto me ne sono accorto troppo tardi vediamo dove guida ok di qua bisogna no aspetta sta andando male perchè va a destra va contro il mondo vieni qua leviamolo metti il verde il verde il verde non ce l'ho io levati aspetta sto provando quello blu no aspetta aspetta quello blu dove ci porta però no a sinistra niente hai sbagliato pure questo fa prova stovetti deve essere forza quello giusto se si è finito lo giusto il coro ci vuole un diritto dritto vabbè in quanto staccato fai fai fermo era questo qui fermo lo scegola controllo mappone va bene ok perfetto nonno questo qui no ok fermo ok va bene va bene tanto sta curva l'avremmo dovuto fare comunque no bloccato esci esci un attimo quale disco hai messo quello viola quello rosa immaginavo fermo quello blu quello blu quello blu ok va bene no no va bene dobbiamo andare dritto abbiamo dischi limitati genus sicuro vieni qui sicuro i dischi sono contati fermo fai mi mettere bianco eh il bianco sono messo io ora aspettami stanno chiamando al cellulare non ci faccio niente mi sono rimasto il bianco io il bianco e giallo aspettiamo sto ok ragazzi sto ne tornato ok quale qua va il blu ok si è il blu eeeh ho urlato un po' di più torni indietro torni indietro non ti ricordi prima è successo lo stesso giro che ci stavamo soffocando un attimo prova con i tuoi il bianco il rosso e il giallo non vanno prova con i tuoi io ho il blu vediamo il blu come va il blu va quello eh però qui non va bene perché si rigira su se stesso io ho solo il bianco se non esce oh 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 perfetto 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 vieni qui trovavo con la strada ci serve quello per andare dritto giù a fermo controlliamo la mappa perfetto ci mancano pochi dischi bastano altre due cose credo fermo ok va bene dai mi mancano il bianco ok manca l'ultimo no no abbiamo finito sei oh yes cos'è che vuol dire che vuol dire se non è villaggio replace selection non è il bianco è davide statti zitto nooo non spiega nulla transfer senza select zoom ma che cos'è che dobbiamo fare oh c'è oh c'è blocchi in visita oh che ho fatto ho appeggiato il polsente io ma dobbiamo trasferirvi di là ah ah e ti ti ricordi quel giochino della barca dove se sono in di più gli zombie eh ma allora prima due zombie no ma non vanno no sto coso non abbiamo gli indizi ma siamo a meno uno degli indizi no non ho tre perchè non ho tre se ne ho fatto uno e basta ma se ne ho fatto ho fatto uno anch'io di indizio ma non ho più blocchi genius si è chiusa la porta cos'è oh si sono trasferiti ora ne ho quattro ma che cazzo genius sono stato un coglione io ho resettato guarda i stombo i cosi si muovono ah col giallo li fai muovere allora fermo due sono stati uno due zombie sono scomparsi aspetta li sta trasferendo guarda figo due ok è rimasto uno da no aspetta due villager io ho due e due oh perchè non trasferisce i zombie i rivi vetri no aspetta ce li ho un villager e no due villager per forza perchè non li vuoi trasportare secondo me secondo me solo i zombie bisogna portare eeeh ok si sta trasportando no da andare è sparito è sparito ok è venuto di qua non vedi c'è il muretto di pietri sconoschioso ma no guarda ok 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 vedi il muretto di pietrisco che si muove le ho portate tutte e due aspetta oh tutte e tre di là sono mh ora che dobbiamo fare ora dobbiamo spostare i villager come fanno innanzitutto non famo perchè non non si spostano non vedi perchè non volete amare villager aspetta fermo metti eeeh uno due zombie fidati così è il punto di partenza al contrario si lo so se stai fermo capisci perchè dobbiamo fare arrivare tutti e tre di qua tutti e sei di qua però se nella stessa stanza ci sono più zombie che villager i villager muoiono e non va bene oh lo sto trasferendo i villager è perchè rimangono comunque in di più ok tre zombie di qua fermo fermo te devi stare fermo adesso non sto facendo il miglior transfer cosa hai fatto il villager i zombie di qua è mandato ora vedaci i vetri please due di là ne rimangono uno un zombie e un villager abbiamo finito no perchè dobbiamo portare anche questi due dall'altro lato appunto ora mettiamo uno zombie no fermo sei un coglione perchè allora quando te fai uno spostamento da destra verso sinistra poi sei costretto a farlo da sinistra verso destra per forza come cazzo si fa e questo è il casino bisognerà riportare aspetta uno zombie come si fa bisogna portare uno zombie verso destra e un villager verso sinistra e due zombie verso sinistra no allora uno zombie e un villager verso insomma non risolviamo niente siamo tornati praticamente al punto iniziale diavolo e non abbiamo neanche aiuti eh no anzi siamo a meno 3 di aiuti oh fermo e altri villager ok sono qui fermo ho usato un aiuto non so come fermo non fare nulla è una cazzata mi è rimasto uno è una cazzata è troppo semplice questi aiuti perchè ce l'ha mi è settato lui in modo da fosse semplice però facciamo bene abbiamo già usato 11 aiuti vabbè alcuni non funzionavano eh abbiamo vinto la mano non so come Grazie a tutti